Assessore, a proposito di nuovi ospedali, si procede anche con l'ospedale di Savigliano? L'ospedale di Savigliano, si è conclusa la gara per l'ospedale di Savigliano e lunedì in giunta delibereremo il finanziamento di 7 milioni per la progettazione, nel corso di 30 giorni di legge, l'azienda sanitaria affiderà la progettazione e in accordo con Inei procederemo con il programma che è pienamente rispettato, tant'è che il Comune sta già facendo la variante di piano regolatore per rendere urbanisticamente idonea l'area, insomma Savigliano sta procedendo nel rispetto del programma e in accordo con Inei. Grazie a tutti!